Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Innanzitutto scusatemi per la presentazione qui dall'auto ma oggi a Lanzarote è uno di quei tipici giorni con tanto tanto vento, quindi ve l'ho fatta da qui sennò veramente non si sarebbe sentito niente. Bene, io sono uscita ora da lavorare, sto raggiungendo Andrea a casa e andiamo a farci, nonostante il vento, un girettino con lo scooter perché la giornata è davvero caldissima, ci sono all'incirca 30 gradi. Prima però di lasciarvi con il video volevo dirvi un paio di cose. La prima è, come avevamo già accennato in video precedenti, nel caso in cui vogliate contattarci per quanto riguarda le vostre vacanze qui a Lanzarote potete farlo liberamente scrivendoci all'indirizzo email di Curiosando Lanzarote che è info.curiosandolanzarote.gmail.com e l'aggiornamento del giorno per quanto riguarda i casi, sono felice perché oggi abbiamo avuto solo 6 nuovi positivi e i casi attivi sono scesi finalmente a 120. Detto questo ragazzi, io vi lascio con il video e nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto potete cliccare sul pulsante iscriviti e attivate la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video. Ci vediamo dopo, ciao! Iscriviti al nostro canale 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 Iscriviti al nostro canale